E oggi tratteremo un argomento che mi è stato richiesto a gran voce, perché tanti di voi mi hanno detto, ma io ok so mangiare, ma io ho capito, devo mangiare di meno, ho capito questo, ho capito quello, ma non riesco comunque a perdere peso. Perché? Che cosa ho disbagliato? È il mio metabolismo? È la tiroide? Che cosa c'è disbagliato? Io non riesco a dimagrire, dottoressa, non riesco a dimagrire, seguo le sue dirette, ma non riesco a perdere peso. Perché? Mangio poco, faccio attività fisica, eppure non riesco a perdere peso. Quindi vediamo quali sono gli errori invisibili che ti impediscono di perdere peso. Oggi parleremo di un argomento molto importante, un argomento che mi è stato in qualche modo richiesto a gran voce. Quindi vedremo gli errori invisibili del fai da te che ti stanno facendo ingrassare. Sono tutti quegli errori che in qualche modo a livello anche inconsapevole metti in atto e che ti impediscono di perdere dai 5 fino ai 50 kg, ma ti impediscono anche di raggiungere un fisico magro, tonico ed armonioso. Come vi dico sempre che il fai da te, quando si tratta di dimagrimento, ma non solo, anche quando si tratta di qualsiasi altra cosa, imparare una nuova lingua, aggiustare la caldaia, aggiustare magari la lavatrice, l'asciugatrice, eccetera eccetera, ma in questo caso parliamo di dimagrimento, non funziona. Adesso andremo a vedere degli esempi pratici che ti aiuteranno a capire dove stai sbagliando e perché ovviamente il fai da te è sbagliato per perdere peso, per perdere dai 5 fino ai 50 kg o più. Io mi presento molto brevemente perché ci sono delle nuove donne all'ascolto, quindi ci tengo a presentarmi molto velocemente. Io sono la dottoressa Saccone, sono laureata in scienze delle attività motorie e psicomotorie, con ulteriori studi, ulteriori perfezionamenti in quella che è educazione alimentare e rimodellamento dei corpi femminili. Allora, dunque, qual è il problema più grande, tornando all'argomento principale di questa diretta? è che purtroppo si crede, si è convinte che per dimagrire basti seguire giusto qualche piccolo consiglio trovato online, così online leggo che si devono eliminare i carboidrati, la mia amica mi dice che lei ha preso la pillolina e ha perso dei chili, o semplicemente quando parliamo di dimagrimento il discorso viene sempre banalizzato, Mangia di meno, muoviti di più. Sempre. Quante volte avete sentito dire, se volete dimagrire, mangiate di meno e muovetevi di più? Da tutti. Tutti. Non se ne salva uno. Tutti. Vuoi dimagrire? E vabbè, mangia di meno e muoviti di più. Tappati la bocca e muoviti di più. Quante volte avete sentito dire questa frase? Io l'ho sentita dire tante volte. Tuttavia, in realtà, la realtà, scusate il gioco di parole, è ben diversa, perché creare un percorso di dimagrimento efficace, dal punto di vista di strategia intendo, non di applicazione, è più complesso e richiede un approccio che sia, ovviamente, strutturato e personalizzato, proprio perché ognuno di noi è diverso. Ognuno di noi ha un passato storico-metabolico diverso, ognuno di noi ha i suoi acciacchi, doloretti, che sono diversi, ovviamente, da quelli della vostra collega, di vostra cugina, di vostra figlia, eccetera. Quindi ognuno di noi è diverso. Attenzione, molto più complesso non significa che il dimagrimento sia complesso, significa che non possiamo ridurre il tutto ad un banale mangia di meno e muoviti di più. Perché non è così. Non è mangia di meno e muoviti di più. C'è tanto altro dietro da prendere in considerazione. Quindi molte persone tendono a banalizzare questo argomento, rivolgono ad una semplice equazione calorica, quindi dicendovi, se vuoi dimagrire devi essere in deficit calorico. Vi dicono questo e poi vi fanno fare la dietina da fame. In realtà il sovrappeso, signore mie, non è causato da un piatto di pasta o da una pizza in più, da una caloria in più o da una caloria in meno. Io non ho mai visto nessuno mettere su 50 chili perché ha mangiato un piatto di pasta a pranzo o un piatto di pasta a cena o perché ha mangiato una pizza di mercoledì e non di sabato. Cioè non ho mai visto nessuno, credetemi, sono tanti anni che svolgo questo lavoro, non ho mai visto nessuno ingrassare per aver mangiato una pizza o una fetta di torta. Mai. Cioè non è stasera mi sono mangiata la fetta di torta, mi addormento che peso 50 chili, mi sveglio che ne peso 100. Non funziona così. Non ingrassiamo in una notte per colpa di una fetta di torta, ok? Come vi vogliono purtroppo far credere e poi vi fanno cadere in cicli di restrizione abbuffata. Dietro quei chili di troppo ci sono motivi ben più profondi che ovviamente il fai da te non è in grado di affrontare. Andiamoli a vedere questi motivi, ne tratteremo solo alcuni, poi vedremo nella pratica quali sono questi comportamenti che fanno ingrassare questi errori invisibili. Però andiamo a vedere cosa c'è dietro l'ingrassare, vediamo cosa c'è dietro i chili di troppo. Sicuramente fattori emotivi e psicologici. Tant'è vero che mi piace molto questa metafora, il peso delle emozioni. E adesso vi spiego meglio. Dietro il sovrappeso non ci sono le scelte alimentari. Come vi dicevo prima, se avete 20, 30, 40, 50, 60, 70 chili in più, Il problema non risiede nelle scelte alimentari, nel piatto di pasta, nel cornetto la mattina o nella pizza la sera. Ma il sovrappeso nasconde delle emozioni non gestite. Per esempio lo stress, l'ansia, abitudini radicate nel tempo, esperienze passate che mi hanno, hanno in qualche modo causato dei traumi dentro di me. Per esempio quando ero piccolina venivo bullizzata, non io, sto facendo un esempio, ok? Da piccola ho subito bullismo a scuola, ecco che quella è una ferita magari che nel tempo mi ha portato a cercare conforto nel cibo. Ho sempre avuto, ad esempio, un rapporto conflittuale con mia madre, che quando ero piccola mi dicevo che ero grassa. Questo ha causato dentro di me una sofferenza tale da rifugiarmi nel cibo. Oppure, sempre quando ero piccola, magari i miei genitori facevano dei commenti poco carini sulla grandezza delle mie gambe, del mio corpo, ecco che quelle sono tutte ferite che con il tempo io cerco di riempire con il cibo. Ma possono anche essere delle abitudini radicate nel tempo, Anche perché se io ho dei genitori che sono in sovrappeso o che sono obesi, ovviamente i genitori mi insegneranno il loro modo di mangiare. Ecco perché se io ho avuto dei genitori obesi o in sovrappeso, molto probabilmente anch'io sarò sovrappeso o obesa, perché mi hanno insegnato magari delle abitudini alimentari scorrette. Quindi ci sono appunto tutte queste cose dietro il sovrappeso. Non è mai una questione di piatto di pasta in più, piatto di pasta in meno, panino in più o panino in meno. Quindi il cibo diventa una risposta ad emozioni negative, come la tristezza, la noia, lo stress, e non è sufficiente tagliare le calorie per cambiare questo schema. Questo schema di sto male mangio è un errore invisibile che magari ha delle radici profonde nella vostra infanzia. Ve le riportate anche ad oggi che magari avete 70 anni, 50 anni, quelli che sono. Questo comportamento non è solo una questione di fame fisica, ma di bisogno emotivo. Tagliare le calorie, fare la fame, seguire la dieta, prendere le pillole, prendere i pasti pronti, prendere gli integratori, senza risolvere questa dinamica, non farà altro che portarti a ripetere lo stesso ciclo, generando frustrazione. Ecco perché passate da una dieta all'altra, al di là dell'insostenibilità delle diete, perché le diete non sono sostenibili e le diete sono, scientificamente parlando, seguendo una dieta, riprendi i chili persi, perché non è sostenibile per tutta la vita seguire uno schema, ok? Però è per questo che ogni volta vi ritrovate sempre nello stesso punto, come un cane che si morde la coda perennemente, sempre questo giro, questo circolo. Per questo motivo, perché non stiamo risolvendo le dinamiche alla base che ci hanno portato ad avere questi chili in più, che ci hanno portato ad avere questo comportamento, questo atteggiamento nei confronti del cibo. Per questo io vi dico, e ve lo dirò anche più tardi, per dimagrire, per perdere dai 5 fino ai 50 chili, dovete mangiare i carboidrati, dovete mangiare il dolce se vi piace, potete mangiare il pane, la pasta, la lasagna, il sushi, la carne, le uova, potete mangiare tutto. Questo ve lo dico perché il problema del sovrappeso non è la pasta, ma è il modo in cui io mi approccio alla pasta, è il modo in cui io mi approccio al dolce, non è il cioccolato che fa ingrassare. Il cioccolato è un alimento come tutti gli altri, quindi il problema non sta nel piatto di pasta in più, nel piatto di pasta in meno, nell'alimento in sé per sé. Il problema risiede nel rapporto che io ho con il cibo. Andiamo avanti. Seconda cosa da tenere in considerazione. Quindi abbiamo detto fattori emotivi, ma ci sono anche quelli che possono essere dei problemi metabolici. E come vi dicevo prima, non è solo questione di mangiare di meno. Un altro errore comune del fai-da-te è credere che ridurre le porzioni sia l'unica soluzione. Ma cosa succede quando il metabolismo non risponde come dovrebbe? Cosa succede? Il fai-da-te, le diete restrittive, seguire la dieta dell'amica, così come l'utilizzo di integratori pseudomagici, finiscono per rallentare il metabolismo. In queste condizioni, il problema non è che bisogna mangiare di meno, ma piuttosto bisogna riattivare il metabolismo in modo corretto. E se continui a seguire diete, pilloline, fai-da-te, tolgo di qua, aggiungo di là, tolgo questo, faccio così, faccio colì, non farai nient'altro che rallentarlo ancora di più, rendendo ovviamente difficile la perdita di peso anche se riduci le porzioni. Terzo, abitudini e comportamenti alimentari disfunzionali. Ci sono delle abitudini alimentari che si instaurano con il tempo e che il fai-da-te non può risolvere da solo. Andiamo a vedere tra poco quali sono queste abitudini alimentari. Saltare i pasti, abbuffarsi la sera, escludere gruppi alimentari, pensando che questa sia la soluzione, sono dei comportamenti che derivano da convinzioni errate. Questi errori, ovviamente, se non corretti da un esperto, da una guida, portano spesso a cicli di diete, yo-yo e ovviamente frustrazione. esempio, una persona che, convinta di dover eliminare i carboidrati per dimagrire, finisce per sentirsi privata e cedere a quelle che sono le abbuffate. Questo ciclo di restrizione abbuffata non è solo fisico, ma soprattutto psicologico e richiede un approccio più profondo e olistico soprattutto per essere risolto. Il vero dimagrimento, quindi, non si può ridurre banalmente a mangia di meno e muoviti di più. Il dimagrimento richiede un approccio olistico che consideri tutti gli aspetti della persona, fisici, emotivi, psicologici, ma anche sociali. Anche sociali, perché anche gli eventi sociali hanno un ruolo importante in un percorso di dimagrimento. Fatemi un attimo bere. Quindi ridurlo ad una banale questione di calorie, non solo non funziona, ma rischia di alimentare una relazione sbagliata con il cibo e con il proprio corpo. Perché in qualche modo mangia di meno, muoviti di più, divento ossessionata dal mangiare sempre di meno, farò di tutto per cercare di ridurre il più possibile le porzioni, ma ovviamente arriverà un punto in cui esploderò, perché non è sostenibile nel lungo periodo, e soprattutto mi crea anche un cattivo rapporto con il movimento. Perché l'esercizio fisico, il movimento, deve far parte della nostra routine settimanale, ma non deve essere visto come un modo per bruciare calorie, ma deve essere visto come un modo per mi prendo cura del mio corpo. Non più mi muovo, così brucio più calorie e dimagrisco più velocemente. No. Non è una visione sana questa qui. Per questo il fai-da-te non solo è inefficace, ma porta anche ad un ciclo di frustrazione, abbuffate e colpevolizzazione. Il dimagrimento è molto di più di un deficit calorico, è una trasformazione che richiede consapevolezza, comprensione delle proprie emozioni e soprattutto il giusto supporto professionale, proprio come non posso prendere la patente se non ho un istruttore di guida che mi insegna come guidare correttamente l'automobile ed evitare di essere un nemico, non un nemico, un potenziale pericolo per gli altri automobilisti o per i pedoni. Allora, adesso andiamo a vedere alcuni motivi per cui il fai-da-te ti sta sabotando. Quindi adesso vediamo quelli che sono questi errori invisibili che ti stanno sabotando. Allora, il primo è la mancanza di personalizzazione. Ogni corpo è diverso, come vi dicevo prima. Metabolismo, livello di attività, età, condizioni di salute. Seguire una dieta generica oppure copiare quella di qualcun altro non tiene conto delle tue esigenze specifiche. La mia alimentazione sarà diversa dall'alimentazione di Graziella, dall'alimentazione di Barbara. Perché? Perché ovviamente io e Barbara, io e Graziella abbiamo sia uno storico metabolico diverso, sia un'età diversa, sia delle condizioni di salute diverse. Magari io sono un soggetto sano e Graziella, per esempio, ha una patologia, ha il diabete, lei potrà mangiare i carboidrati, ma ovviamente dovrà avere delle linee guida diverse perché è un soggetto con il diabete, rispetto magari a me che non ho il diabete, per esempio. Quindi generalizzare, dire, vabbè, seguo la dieta di mia cugina, ma tu sei diversa dalla tua cugina. Oltre al fatto che, come abbiamo detto prima, come abbiamo detto prima, la dieta non risolve i problemi che sono alla radice. Errori nascosti nell'alimentazione. Questo è il secondo errore invisibile. Quando si fa da soli, è facile cadere in delle trappole alimentari che sembrano innocue, ma che in realtà vanno a sabotare i tuoi sforzi. Ad esempio, potresti pensare che mangiare solo insalate oppure eliminare interi gruppi alimentari sia la soluzione, ma questo può portare a carenze nutrizionali e rallentare il metabolismo. Quindi molte persone credono che ridurre drasticamente i carboidrati sia la chiave per dimagrire, ma senza il giusto apporto di nutrienti, il corpo può entrare in modalità di concentrazione, rallentare il metabolismo, rendendo ancora più difficile perdere peso. 3. Un altro errore invisibile. Alzarsi di notte per andare a mangiare. Un altro errore comune che si sottovaluta è alzarsi di notte per uno spuntino oppure per andare a mangiare. Tante donne la notte anziché dormire si alzano e vanno a mangiare l'impossibile. Questo comportamento può essere sempre legato ad una cattiva gestione delle emozioni, dello stress, oppure semplicemente non ho un'alimentazione equilibrata durante il giorno e quindi di notte ho fame. Anche perché il corpo è una macchina perfetta. Noi pensiamo vabbè, io lo prendo in giro il mio corpo, mangio di meno, tanto è fesso. Il nostro corpo non è scemottolo, cioè il nostro corpo forse non avete idea di quante funzioni e di quanto lui fatichi per farci stare sempre in equilibrio. Se vogliamo usare il termine adatto, il nostro corpo deve sempre essere in omeostasi, in equilibrio. Quando questo equilibrio viene a mancare, in qualsiasi equilibrio, ok? C'è uno squilibrio, magari c'è troppo sale e c'è poca acqua, quindi c'ho tanto sale, ma ho una cattiva idratazione, quindi non sono equilibrata, ho un'alimentazione squilibrata perché non assumo carboidrati ma mangio solo proteine e verdure, qualsiasi squilibrio, ok? Quando ci sono questi squilibri e quindi viene a mancare l'omeostasi, il nostro corpo mette in atto tutta una serie di allarmi, di meccanismi per compensare quella mancanza di equilibrio e questi squilibri portano all'interno del nostro corpo ma anche poi si riflettono anche poi all'esterno tutta una serie di conseguenze e di effetti collaterali come li chiamo io. Per esempio se io non mangio bene durante il giorno, non ho un'alimentazione equilibrata, bilanciata, dove mangio tutto, ok? Che cosa succede? Che mi sento stanca, quindi sarò stanca tutto il giorno, mi alzerò la notte per andare a mangiare, alla sera avrò quella voglia di mangiare degli alimenti dolci, e quelle voglie che magari mi vengono all'improvviso durante il giorno, quella voglia di, no? Sapete quando dite avrei proprio voglia di? Quella voglia di è un segnale che il corpo mi sta mandando. Quindi, mangiare di notte non solo influisce sulla qualità del sonno, ma altera anche i livelli di fame e sazietà il giorno seguente, portandoti a fare delle scelte alimentari impulsive e sbagliate. Quarto errore invisibile, esagerare con i prodotti light, pseudo dietetici o proteici. Molte persone che seguono un approccio fai da te credono che acquistare prodotti light, dietetici o ad alto contenuto proteico sia la soluzione perfetta per dimagrire. Tuttavia, questo porta ad una trappola, cioè la trappola che solo perché quell'alimento è light, è proteico oppure è dietetico, io lo possa consumare in quantità illimitate. Perché tanto è proteico, non mi fa niente, no? Cioè, questo errore, quante di voi comprano i prodotti light, magari non vi piacciono neanche, però comprate il prodotto light perché è light. Poi andate a vedere che contiene più grassi e più zuccheri dell'alimento normale. Questo perché, ok, posso togliere i grassi, ma devo aggiungere qualcosa che dia sapore. Cioè, se io faccio un dolce con l'albume, devo per forza aggiungere, anziché magari utilizzare l'uovo o utilizzare qualsiasi altro alimento, è ovvio che devo aggiungere qualcosa all'interno per renderlo più piacevole. Cioè, i dolci fit keto che potete comprare in giro devono aggiungere, se guardate i valori nutrizionali, magari è vero, non mi apportano zuccheri come il muffin normale. Magari il muffin normale mi apporta 15 grammi di zucchero e il muffin pseudo proteico mi apporta un grammo di zucchero. E però perché magari, cioè, per dargli quel sapore un po' più di cioccolato, devono aggiungere più grassi. La realtà è che il fatto che un alimento sia light, non significa che puoi mangiarne a volontà senza conseguenze per il tuo peso o la tua salute. abbuffarsi nei weekend, quindi, una tendenza comune è quella di tenere duro tra virgolette durante la settimana con una dieta rigida per poi lasciarsi andare durante il weekend, pensando che qualche sgarro non farà male. Tuttavia, però, abbuffarsi o mangiare senza regole nei weekend cancella quelli che sono i progressi fatti durante la settimana. Esempio, sei disciplinata da lunedì al venerdì ma il sabato e la domenica ti concedi cene super abbondanti, dolci, alcolici, cioè, aspettate il weekend per mandare a quel paese la dieta e mangiare all'impazzata, abbuffarvi, scatenarvi proprio. Questo approccio non solo manda il tilt e il tuo metabolismo, ma ti fa sentire ancora più frustrata quando i risultati non arrivano, anche se durante la settimana hai fatto tutto bene. Ecco perché io vi dico sempre che lo sgarro non esiste, ma non perché non esiste il pasto, come dire, il pasto libero, tra virgolette, ma pasto libero perché l'alimentazione deve diventare il vostro stile di vita, l'alimentazione deve diventare il modo in cui voi vi alimentate normalmente, non deve essere una restrizione, non deve essere un qualcosa che io faccio da lunedì al venerdì e poi il tabba della domenica mi strafogo, l'alimentazione deve essere un'alimentazione che io riesco a mantenere sempre perché diventa la mia normalità, cioè per me fare colazione col cornetto e il cappuccino di lunedì non è un qualcosa che tu dici sto sgarrando, no, è una cosa normale per me perché significa assecondare le mie voglie con equilibrio, quindi non è che io aspetto il sabato e mi scofano 40 cornetti un cornetto con la nutella che io sono amante della nutella ma potrebbe essere anche col pistacchio col cappuccino ma lo posso fare in qualsiasi momento della giornata, cioè in qualsiasi giorno della settimana perché per me è la normalità è anormale aspettare un giorno della settimana per abbuffarsi, questo è anormale, non mangiare la pasta tutti i giorni, non mangiare il panino o la pizza di mercoledì e non il sabato il giorno di sgarro perché se io arrivo al sabato e anziché magari mangiare una pizza normale mangio la pizza poi c'ho la buffata di dolci poi c'ho la buffata di alcol poi c'ho la buffata di patatine ma che senso ha? cioè è come quelle persone che dicono vabbè io bevo alcolici solo nel weekend durante la settimana non bevo ma non ha più senso bere un alcolico tutti i giorni della settimana anziché arrivare al sabato e ubriacarti a schifo rischiare un coma etilico sesto errore invisibile mangiare troppo poco o in modo sbilanciato uno degli errori più grandi è pensare che per dimagrire basti ridurre drasticamente le calorie come abbiamo detto dall'inizio di questa diretta fino a praticamente a quasi la fine sembra logico no meno mangi più dimagrisci la famosa frase mangia di meno muoviti di più oppure tappati la bocca e muoviti di più tutte queste frasi posso dirlo stupide che non fanno nient'altro che alimentare senso di frustrazione disagi nei confronti di stupiti al comportamento alimentare perché dire vicino ad una persona che ha un problema con il cibo magari ha avuto episodi traumi ok e quindi il cibo rappresenta una valvola di sfogo andare a dire chiuditi la bocca praticamente tu mi stai ammazzando quella persona mangiare troppo poco rallenta il metabolismo come abbiamo detto prima questo perché il tuo corpo entra in modalità sopravvivenza e piuttosto che bruciare i grassi che cosa fa conserva il cibo che tu gli dai sotto forma di grasso si prepara quindi ad un'eventuale carestia nel momento in cui magari il corpo pensa o meglio ragiona così dicendo questa qua mo mi sta dando più cibo io me lo prendo e me lo deposito sotto forma di grasso così che se dovesse fare la fa se dovesse sottoporsi un'altra volta ad una dieta da fame io c'ho la mia scorta c'ho le mie riserve che stanno qui il risultato quindi qual è ti senti affamata stressata e non perdi peso allenamenti non adatti al tuo corpo allenarsi senza un piano preciso o senza considerare il proprio livello di forma fisica può portare a risultati scarsi o addirittura ad infortuni esempio magari pensi che fare ore di cardio ogni giorno sia la soluzione ma senza un mix di esercizi che vadano a tonificare e stimolare il metabolismo correttamente rischi di perdere massa muscolare il che ovviamente rallenta ulteriormente il tuo metabolismo quindi senza una guida è facile fare troppo o troppo poco senza quindi raggiungere il risultato sperato anche perché se io non ho una guida sto andando un po' a casaccio cioè non so se funziona così non so il mio corpo com'è non so ok quindi vado un po' alla cieca vado un po' non so dove andare vado a caso vado lì quindi ora che abbiamo visto i principali errori del fai da te spieghiamo ancora di più perché una guida professionale è essenziale per avere successo un professionista del settore che tenga conto di tutte queste sfere quindi un qualcosa di olistico non qualcosa di distaccato tra di figure distaccate tra di loro no ma un qualcosa di olistico fa la differenza per diversi motivi punto numero uno per la personalizzazione perché ovviamente un programma personalizzato prende in considerazione le tue esigenze il tuo stile di vita le tue preferenze alimentari eventuali problematiche di salute il tuo livello di attività fisica e un programma personalizzato si adatta perfettamente al tuo stile di vita quindi ti ti aiuta a non fare cucine separate a non avere lo stress classico della dieta perché magari bisogna fare 3000 cucine tutte diverse tra di loro a non avere ulteriore magari cose da fare task da fare no per esempio cucina così poi fai colì poi fai colì fai così tutti questi questo stress ulteriore che deriva da un qualcosa di non personalizzato e che quindi non si adatta alle postre esigenti quindi invece di seguire una dieta standard ricevi un percorso alimentare che ovviamente si adatta a quelle che sono le tue esigenze a quelli che sono i tuoi ritmi lavorativi della vita privata e rende ovviamente la perdita di peso più facile più sostenibile e soprattutto anche più veloce e divertente seconda seconda cosa correzione degli errori invisibili proprio come vi dicevo prima facendovi la metafora il parallelismo con un istruttore di guida un professionista è in grado di individuare quegli errori che tu da sola non riesci a vedere ti aiuta a capire come bilanciare i pasti per mantenere attivo il metabolismo ti aiuta ad evitare di perdere tempo commettendo degli errori che non fanno nient'altro che rallentare il tuo metabolismo supporto e motivazione perché uno degli aspetti più sottovalutati nel dimagrimento è il supporto emotivo quando andate dal nutrizionista il nutrizionista che fa prende la dieta vi dà la dieta prende foglio stampa foglio dà foglio ma finisce lì non c'è un supporto emotivo non c'è un ti aiuto a riconoscere quelli che sono magari gli errori che ti hanno portato in questa condizione e ti prendo per mano ti accompagno verso la perdita di 5-50 kg verso il raggiungimento di un fisico magro tonico ed armonioso e soprattutto verso la mentalità della persona magra quindi come abbiamo visto oggi all'interno di questa diretta il fai da te può sembrare una strada valida per perdere peso perché magari uno dice vabbè ma io faccio da me tolgo questo tolgo quello io spero che arrivate a questo punto nella diretta abbiate capito che non è una questione di togliere e non togliere o di di togliere calorie o di fare la fame o di badare solo alle calorie mangia di meno e muoviti di più io spero che a questo punto della diretta abbiate capito questo concetto perché altrimenti un'ora e un quarto di diretta ho sprecato solo fiato se non è chiara questa cosa ma nasconde degli errori che ti portano ad ingrassare e a non raggiungere mai i risultati sperati basta che guardate i vostri risultati di oggi il corpo che avete oggi è il risultato di ciò che avete fatto prima cioè se ad oggi avete 20, 30, 40 o più chili questi chili sono il risultato di ciò che avete fatto prima quindi immagino anche che avete capito che se volete trasformare il vostro corpo raggiungere un fisico magro tonico armonioso e velocizzare anche quello che è il metabolismo perdere quella pancia magari gonfia che vi fa sentire a disagio migliorare l'aspetto del vostro corpo non potete farlo da sole non si può fare hai bisogno di una guida che ti aiuti ad evitare quelli che sono gli errori invisibili a personalizzare il percorso in base alle tue esigenze e a fornirti il supporto di cui hai bisogno ora se ti sei riconosciuta in alcuni degli errori di cui abbiamo parlato oggi sei stanca di non vedere risultati e in qualche modo anche di vivere di guardarti allo specchio e non e non apprezzare quello che vedi io ti invito vivamente a fare un passo in avanti quindi ti invito a richiedere una consulenza gratuita con un professionista FESPA dove possiamo discutere del tuo percorso e capire come personalizzare un piano per te per mettere finalmente un punto a queste diete e a questo saltellare da una dieta all'altra che altro non fa se non rallentare il metabolismo e portare ad un rapporto conflittuale con quello che è il cibo